La Russia è per tutti, ma non tutti sono per la Russia. Questo concetto possiamo spiegarlo ponendoci alcune domande. Il mio prodotto è richiesto in Russia? Ho le capacità produttive per questo mercato? Ho una struttura commerciale per affrontarlo? Conosco già quelle che sono le problematiche che andrò ad affrontare in questo mercato e so come affrontarle? Le domande sono ancora tante. Domenico Giordano, della Giordano Brokerage Est, in Russia da 17 anni. Ho deciso di mettere a disposizione gratuitamente mezz'ora del mio tempo per le prime 10 aziende che scriveranno sotto questo video. Aziende con fatturato fra i 3 e 5 milioni di euro, quindi aziende piccole, produttrici di vari beni di consumo. In questo audit gratuito andremo a capire se voi siete adatti per il mercato russo oggi. Andremo ad analizzare le vostre caratteristiche e quelle del mercato e alla fine di questi 30 minuti avrete un primo piano di approccio presso questo mercato. Definiremo quelli che sono i canali principali per voi ora e quelli che sono gli strumenti necessari. 30 minuti del mio tempo dedicati a voi, alle prime 10 aziende che scriveranno sotto questo video, per avere un primo approccio, un primo piano di lavoro che potrà poi essere affrontato, approfondito con il sottoscritto o potete farlo in autonomia. Quindi, se sei un'azienda produttrice di beni di consumo con fatturato fra i 3 e i 5 milioni, interessata al mercato russo, e vuoi capire se hai gli strumenti ora per poterlo affrontare, se hai tutti i numeri per poterlo fare, metto a disposizione i 30 minuti del mio tempo gratuitamente per le prime 10 aziende. Arrivederci e buona Russia!